Brindisi al nuovo anno e poi tutti nuovamente in campo. La Lega Pro è pronta a ripartire, la diciassettesima di campionato, l'ultima del giornale d'andata, andrà in scena tra il 9 e l'11 gennaio. Ma le squadre torneranno a sudare già il 2, Catanzaro e Cosenza in primis. E se per i silani le buone notizie arrivano dall'infermeria con il recupero totale di Lamantia, per le aquile gelorosse le buone novelle potrebbero arrivare dal mercato. Almeno è quello che si aspetta Mister R, il quale ha chiesto ai massimi dirigenti dell'US un giocatore di peso per ruolo. Niente di più. D'altronde il Catanzaro pare aver trovato la giusta quadra con il re in panchina. Nelle ultime sette partite ha tenuto un ritmo da promozione diretta. Stravolgere potrebbe essere devastante. Ogni ingaggio sarà legato ad una cessione. In sostanza tre arriveranno e tre partiranno, con le valigie in mano a Godirin, mentre dovrebbe restare Taddei. Tra i nuovi, due pedine potrebbero riguardare due ex gelorossi come il difensore Loris Bacchetti e il centrocampista Alessio Benedetti. Particolare attenzione poi all'attaccante. Razziti non si muoverà dei tre colli, quindi è facile immaginare che il DG Donnarumma sia cercando una seconda punta che possa agevolare il lavoro dell'ex bomber del Brescia a quota 5 gol dopo la prima parte della stagione. Il Catanzaro riprenderà da Melfi, mentre il Cosenza da Ischia e entrambi match andranno in scena sabato 9 gennaio.